Ecco un bel proiettile usato, guagliò, e anche questo è da buttare nell'umido, credo. Siccome d'è con dubbio, vediamo che dice la muce. Armamenti. Quelli sono rifiuti pericolosi da smalchire, vanno al centro di riciclo. Non sono pericolosi. Si sono usati. Becchi, ignoranti. Questa è l'ennesima prova che la vostra generazione ha effetti letali sull'ambiente, hai visto? Ma questi numeri sono completamente inventati. Io è da sempre che butti il coso o dei succhi nella pratica, eccetera. Intendi il pezzo? Esatto. No, esistono delle raccolte positive. Mi aiuterebbe a sensibilizzare gli abitanti di Springfield per favore? Sardiamo il mondo! Lei fa abbastanza per differentiare i rifiuti a canna. Sì, ma non so ancora dove vanno uscire l'uomo. Sì, sono un ambientalista, oltre che un fiero amante del naturismo. Barron! E ci dove butti il polistirolo? Credete davvero di entrarmi in inganno con così poco? Io riciclo il polistirolo e gli imballaggi, da quando la mia cagnolina è abbastanza grande da non abbaiare agli imballi con le bolle. Dannato vizio. Sì, non posso fare a meno di scopiare quelle stramaledette bolle. Ma già, ne abbiamo sequestrato due quintali. Davvero? Lei lascia gli ingombranti accanto ai bidoni? No! Una volta ci ha nascito un divano, ma sono per dormire. È la verità, e nel resto per vagabondaggio. E così il mondo è salto. Barron! Non ci ha faticato l'ambra, non nemmeno ti ha impratto il cartellino. Angelo Maggi, Monica Ward.